Cari amici trader, buongiorno, sono le ore di 6 del mattino, facciamo la nostra analisi sulle candele daily dei cross e degli indici. Prima di tutto leggiamo come di consuetudine il nostro disclaimer, presente gruppo Forex per tutti, esclusivamente a finalità di dati che non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento come associazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali e simulati, non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performanze future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque lo fa sotto la propria esclusiva risposta. Pertanto l'autore Fabio Rusconi, io medesimo, non si assume alcuna risposta circa eventuali danni diretto o indiretto e direttamente a decisioni di investimento presi dal lettore. Il navigatore pertanto ne esona nel gruppo, nei limiti di legge, da passare risposta comunque connesso derivante dal presente gruppo. Andiamo a vedere per momento il nostro calendario. Come potete vedere al mattino, scusate, eccolo con lo sposto, vedete che c'è alle 10.30, c'è vendita al dettaglio mensile che è negativo, ci potrebbe essere un depreciamento della sterlina. Poi nella seconda parte vedete che non c'è niente di interessante e anche, scusate, nella terza parte vedete che anche qui niente, vuol dire che a parte il dato sulla sterlina non c'è niente. Andiamo a vedere i nostri grafici e cominciamo Eurodollaro. Eurodollaro vedete che ieri ha fatto un ritracciamento a 38 febonaci, vedetelo qua, perfetto, per poi ritornare al rialzo, eccolo qua, vedete che i cicli sono al rialzo, se andiamo a vederlo sul ciclo inferiore facciamo un bocchettino più grande, vedete che dopo aver toccato 1.21.860 ha fatto questo ritracciamento e adesso si trova, vedete qua, in una fase laterale. In lo short credo che si dovesse superare, come si chiama, questo supporto e ora si potrebbe tentare a 1.22.163, si potrebbe tentare operazioni short, anche se, faccio una cosa, per il momento il ciclo 8 giorni rimane, il long, qui sembra che potrebbe, qui abbiamo il ciclo a due giorni che sta indicando lo short, il ciclo di 4 giorni che sta per girare, short solo, posizioni short solo se dovesse superare, 1.22, approssimata a 160. Andiamo a vedere la sterlina, GBPUSD la sterlina, vedete che la sterlina si trova all'interno di questa candela madre, non ha superato il massimo della candela precedente, il ciclo rimane long, sul lungo periodo, sul corto periodo, GBPUSD, andiamo a vederlo, sul periodo short, vedete che ieri dopo aver, eravamo rimasti a una fase laterale, ha fatto un nuovo massimo, vedete, a 1.39.420, il ciclo rimane ancora per il momento long, vedete che potrebbe, adesso si trova in quest'area, potrebbe andare a prendere a fare il suo pullback, per il momento lo short, solo se dovrebbe rompere 1.38.050, si può aprire posizioni short, ma per il momento rimaniamo long. lo yen, USDGPY, lo yen come potete vedere, ieri ha fatto un massimo a 111.482, non ha rotto questa resistenza di colore blu, e il ciclo, come avevo detto, rimaneva short, se andiamo a vederlo sui cicli inferiori, USDGPY, eccolo qua, vedete che aveva fatto il rialzo, vedete che è andato a prendere, questa, questa, come si chiama, questa massimo a 112.482, aveva rotto la resistenza di colore giallo, per poi ritornare al ribasso, e adesso vedete che sta per girare, anche se il ciclo a 8 giorni rimane short, qui sembra laterale, il ciclo a 2 giorni rimane long, e il ciclo a 1 giorno sta per girare, posizioni long, per il momento suggerisco di non aprirne, e short solo se dovesse rompere il minimo di questa candela qua, a 110.708 si possono aprire posizioni short, per il momento il centrale di fondo è short. USDCAD, vedete che trend di fondo rimane short, vedete che c'è questa candela inside, non ha superato nel massimo o nel minimo della candela precedente, e se andiamo a vedere USDCAD sulle candele sul ciclo inferiori, vedete che il ciclo a 8 giorni laterale, il ciclo qui sembra laterale, vedete che stanno per girare short, qui c'è questa spike, sono tutte candele all'interno, qui se non rompe 1.23.044, 1.23.044, suggerisco di stare, di non aprire nessuna posizione, perché, eccolo qua, te lo vado a segnare, scusate ho preso quello sbagliato, perdonate, eccolo qua, short solo se supera 1.23.044, qui ancora trend, rimane ancora per il momento, qui c'è la fase laterale, vedete che stanno per girare, qui suggerisco di aspettare. Poi andiamo a vedere adesso AUD, AUD, USD, vedete che l'Australian dollaro è ancora al rialzo, non ha superato il massimo della candela precedente, ha ancora grande forza, l'Australian dollaro, lo guardiamo, AUD, USD, vedete che il trend di fondo rimane ancora long, suggerisco di non aprire posizioni short per il momento, di aspettare short per il momento, suggerisco di non fare nessuna operazione short e di non neanche aprire posizioni long, perché ormai saremo quasi alla fine del ciclo, perché adesso fra un po' deve chiudere, perché guardate qui siamo già, scusate, voglio essere solo più preciso, voglio contare quante candele ci sono da qui a qui, sono 29, c'è ancora la possibilità che il dollaro australiano, qualora dovesse superare questo massimo, potrebbe ancora continuare al rialzo. Andiamo a vedere NZD, NZD, USD, New Zealand, vedete che New Zealand sul daily è ancora long, mettiamoci un'altra resistenza, qui su questo massimo, eccolo qua, scusate, eccolo, vedete che qualora dovesse superare questo massimo si potrebbe entrare long, ma andiamo a vedere le prime cicli più inferiori che quello che ci interessa, NZD, USD, eccolo qua, vedete che NZD, USD, il ciclo, tutti i cicli sono ancora al momento al rialzo, per il momento posizioni short non se ne devono aprire, vedete perché qui ha fatto ieri questo nuovo minimo, vedete qua, eccolo qua, c'è stata questa spike, vedete che sul dato, il ciclo rimane long, per il momento suggerisco di non aprire posizioni short e anzi di aspettare, qualora dovesse rompere questo minimo all'arancione, allora si potrebbe entrare posizioni short, per il momento suggerisco di aprire solo posizioni long o di stare flat, andiamo a vedere l'oro, XAU, USD, eccolo qua, gold, come potete vedere ciclo al rialzo, vedete che è sempre al rialzo, se lo andiamo a vedere sui cicli inferiori, vedete che il gold, XAU, eccolo qua, vedete che il ciclo inferiore invece incominciano a girare, vedete tutti al ribasso, allora qui adesso qualora dovrebbero essere rompere i 1324, vedete 1324 si possono aprire posizioni short, non prima, anche se il ciclo a 8 giorni è long, però vedete che qua sta giragirando e qua è possibile adesso che vada a fare un nuovo minimo, secondo me il nuovo minimo potrebbe essere, ve lo dico, approssimativamente, eccolo qua, dovrebbe superare i 1324 approssimativamente, stiamo a vedere cosa succede, per il momento suggerisco di aspettare la rottura di questo minimo e non entrare prima, dovrebbe adesso fare il suo ritracciamento, andiamo a vedere US30, dal US30 come potete vedere dopo 121 anni ha fatto un nuovo massimo, ha superato i 26143, lo vado a segnare, qui nuovo massimo, il ciclo rimane ancora long, se andiamo a vedere sui cicli inferiori, US30, eccolo qua, vedete che nei cicli inferiori il ciclo a 4 giorni sta per girare, ma ancora long, il ciclo qui del, un giorno ha iniziato a girare, vedete, sta per, aspettiamo l'incrocio prima di una conferma, qui al momento short solo se dovesse rompere questa linea gialla, e non prima, anche se il trend di fondo rimane long, andiamo a vedere il DAX, eccolo qua, DAX, DAX come potete vedere ieri chiuso al rialzo, però siamo in una fase come vedete laterale, il trend ancora rimane long, vedete, anche se quello qua sta per girare, qui suggerisco di aspettare, vediamo se sui cicli inferiori, DAX, eccolo qua, sui cicli inferiori vedete che se troviamo per il momento ciclo a 8, ciclo a 4 giorni a rialzo, però il ciclo a 2 giorni, 1 giorni, ci troviamo in una fase laterale, vedete che siamo qui, e qui suggerisco di aspettare, andiamo a vedere adesso il VTI crude oil, VTI, eccolo qua, VTI crude oil, come potete vedere ci troviamo sempre in una fase, i cicli al rialzo, e se andiamo a vederlo, il VTI, VTI, sui cicli inferiori, vedete che il ciclo inferiore sta per girare, il ciclo a 1 giorno al ribasso, ciclo a 2 giorni al ribasso, sta a girare anche il ciclo a 4 giorni, per il momento short, solo se dovesse rompere il minimo registrato a 63,290, e per finire andiamo a vedere AUD, AUD, NZD, Australian Dollar, vedete che l'Australian Dollar rimane ciclo al rialzo di un anno, e vedete che sta per andare a rialzo anche il ciclo dei due mesi, vedete che sta per incrociare, e se lo andiamo a vedere sui cicli inferiori, AUD, NZD, eccolo qua, vedete che il ciclo a 4 giorni, il ciclo a 8 giorni, sono al rialzo, ciclo a 2 giorni, rialzo, il ciclo a 1 giorno, al momento al ribasso, deve ancora girare, qui suggerisco di aspettare l'incrocio prima di entrare long, aspettare l'incrocio, dire che qualora dovesse superare il massimo che ha fatto mettere questa resistenza, se dovesse superare questo massimo, allora si può tentare posizioni long, vi ringrazio, se vi è dell'ascolto, se vi è piaciuto mettete qualche mi piace, vi auguro ancora a tutti una buona giornata, una buona notte e buon trading